C'è capitato un contatto con Rocco Siffredi C'è chiesto di girare dei video porno con lui Ciao, tanto tempo, che bello Questo è un video tappa buchi Però è molto bello E iscrivetevi, è finito, ciao Facciamo la frutta Mamma mia, questo è fuori ogni dubbio Stiamo lavorando tantissimo, quindi non rompete il cazzo Oggi, obbligo e verità Allora, ragazzi, io non lo facevo da vent'anni questa cosa Cominciamo, obbligo e verità? Verità, tutta la vita Obbligo Beh, tu te cacchi addosso della verità, eh Racconta il peggior cliente che avete avuto facendo capire chi è Allora, il peggior cliente Ma in realtà lo voglio dire, una famosissima Ci fa malestà Finiamo malissimo, te lo dico Obbligo Scherzo telefonico a Claudio Di Biaggio Ciao Claudio Di Biaggio Ti vorremmo proporre come Slim Dogs un possibile lavoro Ci è capitato tramite i The Jagal un contatto con Rocco Siffredi Ci ha chiesto di girare dei video porno con lui Non ci posso dire Ma che cosa vuol dire? L'unica cosa ci ha chiesto praticamente se tutta la troupe è disponibile ad essere nuda durante le riprese Ma è una gag, mi stai facendo una gag perché mi stai dicendo tutte cose che fanno sempre più ridere Claudio, per quanto fosse una roba molto bella, purtroppo non è vera È un Q&A Verità Un youtuber che ti sta antipatico Carca miseria, aspetta, ci devo pensare Stabile Cane secco ragazzi L'ho detto È vero I me contro te Youtube fa cagare Va bene No, dai Perché ho più verità Verità, zio Io sono verità Sposa, ci fai l'amore e uccidi Tra quelli della Slim Dogs e perché Sposo Giovanni Sposerai Matteo o Bruno? Casalingo, perfetto Cioè lui è proprio sistema tutto casa Faccio l'amore Giacomo È una questione nuova, capito? È un'esperienza Marco Cioni, perché mi sembra un animale Uccidi Scontato di riuscito Marco Cioni Ucciderei sempre Marco Cioni subito dopo averci fatto la mamma Un po' uso manti dei religi Marco Cioni, obbligo verità Obbligo No Sì Rottura di bar Abbiamo appena montato la stanza di là Deve smontare la scrivania di Eriano Santucci Sì, grazie Cosa va? Sì Ti sei amato? Sì Se che non mi possa rottanare un attimo Ma dov'è il tavolo? Sì, ma caccia il tesoro Ci sei passato davanti al tavolo Ci sei passato davanti Ci sei passato davanti Ci sei passato davanti Ci sei passato davanti Dov'è? Ammeli con verità Verità? Hai mai cagato nel lavandino? Non ho mai cagato mai Ammetto che cagare nel lavandino Se è stata una volta in cui ci ho pensato Seriamente Ti hai pisciato nel video Sì, sì Dai, come dire Hai mai pisciato nella doccia? Ma non l'ho per cagare Ti ringrazio che non ho cagato nella doccia Distruggi una cetta Distruggiamo questa cetta Abbiamo scelto questa cetta Da sacrificare È una di quelle che sta con noi da più tempo È una di quelle a cui siamo più affezionati Perché ci abbiamo vissuto tante esperienze È il momento che vada in pensione Ammiro Il piano per il giusto sacrificio È usare la prima cetta Che è entrata in questo luogo Questa è la cetta regina Dividere la parte del manico dalla lama Una parola per la cetta Grazie Non ti dimenticheremo Suona il tasto lì e ti apre qualcuno Sì Il sacrificio è compiuto Verità Verità pure tu È vero che il cane secco è un fallito? No Verità Quale canzone è il vostro guilty pleasure? Il mio guilty pleasure è Fuori di me di Greta Mecchi Pasta contorno Pasta contorno Tutti sanno che Mando Pasta Young signori Alpha 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 Beto Ia 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 Tapolavoro Avanguardia vera Momento di pausa in cui vi parlo dello sponsor di questo video Ormai lo conoscete meglio di me Quindi adesso lo spiegherò a quelle poche persone rimaste che non sanno di cosa sto parlando Si parla di NordVPN che è un servizio che vi permette di navigare in modo sicuro Stando certi che i vostri dati non vengano rubati Quindi per esempio se vi connettete a una rete poco sicura come può essere quella di un albergo o di un aeroporto Siete certi che nessuno venga a trafugare i vostri dati Poi c'è la funzione per cui io lo utilizzo principalmente cioè accedere a cataloghi di siti di streaming di altri paesi Quindi poniamo che ci sia la serie comedy canadese che voi volete proprio vedere e che in Italia non è disponibile Voi a NordVPN gli dite guarda sto in Canada fammi vedere non è inutile che te la tieni per te e ve la vedete Andate sul link in descrizione e utilizzate il codice sconto canesecco per avere il piano biennale più un regalo bonus con uno sconto bello ciccione E ora torniamo a obbligo verità La più assurda esperienza sessuale Ah su un aereo Mezzo nei posti In bagno Questa voglio sapere la tua Nell'androne del palazzo di casa mia Obbligo di nuovo ho bisogno di fare cose Mangia un limone intero Aspetta qui Che schifo Ma con la buccia Ah no Dovessi mangiare intero Com'è? Vengono i brivi solo a pensarci Non mi piace Ma stavo capito che te ne c'è la limonazione Che buono Obbligo verità Dite quanti debiti ha Slim Dogs Non ne ha in realtà Ma quindi quei 3 che 4 milioni che te sei preso Ma quelli non sono debiti Ah investimenti Obbligo Obbligo Lancio dell'ascia Abbendati Questo faccio pure io Questo faccio pure io Porte Buono? Vorrei razzetta lunga per favore Ammazza Ma d'altronde il campione Tieni ecco un'altra cesta No questo Ma questo è buono Ma senza togliere l'altra? Si Scambiatevi i vestiti Sono uguali tra la vera Dio ma come facciamo Ma come facciamo? Ma mi ha chiesto se è così Ma quanto porti? Va bene Ma il tuo mondo è incredibile Ciao Sì San Marco Giorgi Sì Verità 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 Qual è il peggior video di Matteo? C'è stato un format che volevamo fare a un certo punto Che si chiama melaccollo Dentro i capanni Ragazzi Fuori di testa Quello credo che è il peggior video E per questo non l'avete visto E forse non lo vedrete mai No mai La domanda che ti spaventa di più al momento Quando esce il nuovo vlog? Ma che fai st'estate? Torneremo a viaggiare nel mondo? Sta davvero tutto finendo La questione covid? Quale parte del tuo lavoro non ti piace Ma lo fai perché sei pagato per farlo? Accatastare tutti i documenti Accatastare? Chi ti chiede di accatastare? Non mi piace tutta la parte tecnica Le mail e il telefono Ma nessuno ti ha mai detto di accatastare i documenti Obbligo Marco Cioni deve fare 5 flessioni con Benedetta sulla schiena No zio ma chi so Go Eccoci qua Sei prontati? Ti metti sulla mia schiena Io devo fare 5 flessioni Stare ben G Vai 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 Stica No Sta funzionando Te lo posso dire Sei tu che non hai abbastanza muscoli Obbligo Prepare freestyle per 40 secondi Ti metto una base Atto quinto Mi aspettavo meglio i dettatero sai? Eh perché ti aspettavi l'altro cane secco Sono un po' deluso Di rapper Pensa se adesso Ehi ehi che succede qua? Giocate ad obbligo verità Se l'obbligo fa vero rap Eccola la verità Voi distratto Prima c'era un secco Adesso c'era un altro Come ca' hanno fatto? No verità No Ah sono finite E quindi? La verità E che questo video È finito Quindi si conclude anche qui Questo altro video Tappabuchi Obbligo verità È stato un obbligo Per voi Doverlo guardare Ma dite la verità Un po' che è piaciuto Il prossimo video Roulette russa Sarà bellissimo E sarà anche L'ultimo L'ultimo Prima della posta Perché noi la stiamo a fa fisicamente Ci vedete Siamo finiti Quindi Se vi è piaciuto questo video Mettete like Condividetelo Iscrivetevi al canale E diteci La vostra canzone Guilty pleasure Nei commenti Perché sono curioso È il momento anche per voi Di dire la verità Esatto Dite la verità Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao